Pasquale Lamura ha accolto i partecipanti e raccontato l'evoluzione logistica di DFL Gruppo Lamura che negli ultimi dieci anni ha ampliato il proprio business divenendo una delle principali realtà commerciali del sud Italia nel settore ferramenta, materiale elettrico ed edilizia. Nel 2006 DFL decise di ampliare la propria struttura e da un deposito di 1500 metri quadrati divenne un cedi di 21.000 metri quadrati. Fin da subito è stata evidente l'esigenza di implementare un software per gestire il magazzino perché la sola esperienza degli operatori non era più sufficiente a garantire un servizio adeguato ai clienti. Da un'attenta software selection è stata scelta Replica Sistemi perché... Perché Replica allora fu l'unica azienda che ci riusciva a fornire e garantire già un pacchetto di due software di gestionale interno per la fatturazione e stock system di gestionale per il magazzino già configurati tra di loro. Il magazzino è stato mappato e suddiviso in tre aree, articoli voluminosi, articoli di medie dimensioni, minuteria. Nel 2012 DFL per accrescere il business e incrementare il numero delle referenze ha scelto di implementare la tecnologia Voice per la gestione della minuteria. I risultati oggi che ci hanno portato grazie all'unica di stock system sono quelli di aver aumentato la produttività sicuramente volve oltre il 20%, sicuramente abbiamo avuto una riduzione dei miei errori, dei reclami da parte dei miei, l'inventario real time, l'aumento delle numerose preferenze gestive che ha poi fatto di poter gestire quello che stiamo facendo oggi, ovvero poter gestire gli ordini tra i diversi canali di vendita che è una cosa abbastanza articolare soprattutto quando si pensa al fatto che i clienti che ad esempio vengono in azienda sul posto devono avere una priorità diversa dagli altri, quindi c'è la possibilità di gestire delle priorità di credito. Antonino Piroddi ha illustrato nel dettaglio le funzionalità del WMS Stock System Evolution, del modulo Stock Voice e dell'innovativo Pixelite Air. Infine i partecipanti si sono recati nel Cedi per vedere dal vivo la perfetta organizzazione del deposito grazie all'integrazione di diverse tecnologie guidate dal WMS Stock System Evolution. Siamo un'azienda in espansione, in crescita e ci sono sostanziali anche i lavori, vedo, un magazzino in crescita e ci sono, grazie a questa organizzazione, grazie al programma, ci sono prospettive di poter ancora crescere e fare di più. Grazie a tutti! Grazie a tutti.